Ciao, eccoci con un nuovo video, avrete letto giù dal titolo spacchettamento di questa marca, che è la Covershot Cosmetics è una marca inglese, mi hanno contattata per collaborare io sono stata felicissima, mi hanno detto guarda ti invieremo una box con qualche prodotto ora voi vedrete, credo mi abbiano inviato tutta la linea apro una parentesi prima di farvi vedere tutto è vero che io ho un canale di recensioni quindi molti di questi prodotti ho voglia di recensirli li proverò, ma è pur vero che sono veramente tanti quindi non è giusto che io me li tenga è giusto condividere come diciamo in tutti i video ormai chi mi conosce da un po' lo sa quindi inserirò questi prodotti man mano nei giveaway quindi ce ne sarà uno a marzo dove già troverete qualcosa di questa scatola e man mano insomma cercherò di smistarli anche con voi e di condividere con voi come faccio spesso questi prodotti perché sono veramente tanti quindi insomma mi sembrerebbe uno spreco tenerli per me ecco, non riuscirei neanche ad utilizzarli ora che vi ho fatto questa premessa voglio farvi vedere tutta la carrellata di prodotti allora, pesco random la prima che vi faccio vedere è questa che è una terra pressata è la numero S8660 e sono 10 grammi è un colore molto chiaro come state vedendo e non so, mi sembra abbastanza adatta al mio incarnato ho mandato 4 blush in realtà sono 3 quindi perché uno mi è stato inviato doppio quindi uno è già vostro e sono allora 3,4 grammi come state vedendo dalle immagini quindi c'è il numero 1 che è un color mattonato il numero 2 che è un colore molto molto chiaro sembra quasi un correttore e una specie di terra che si chiama No More Shine mi hanno inviato anche un illuminante che si chiama sempre Cover Shot Backhead Eyelighter ed è il Backhead Eyelighter appunto sono 4,2 grammi ed è un colore tendenzialmente che bira sull'oro poi mi hanno inviato 4 ombretti cotti adesso ve li dico subito e sono il numero 5 che è come vedete dalle immagini una specie di top molto shimmer molto bello il numero 8 che è invece un rosato sempre shimmer il numero 9 che è un oro e il numero 10 che è un argento per quanto riguarda i correttori sono due, due sti uno più chiaro ed uno più scuro sono il Medium che credo che vada bene per il mio incarnato e il Translucent che è un po' più chiaro 4 mascara e sono Volume Lush Mascara Waterproof Mascara Carling Lush Mascara e Long Lush Mascara 4 luci da labbra e sono il numero 1 che è come se fosse marmorizzato tanto vi faccio vedere comunque le immagini di qua poi c'è il numero 2 che è un trasparente con dei glitterini colorati che virano sul verde e sul blu il numero 3 che è un nude sempre comunque tendente al trasparente e il numero 11 che è un bel fucsia continuiamo con la carrellata ci sono 4 rossetti allora il primo si chiama Pink ed è appunto un rosa baby molto 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 chiaro poi c'è il nude che è invece un marroncino sempre molto molto chiaro il come si chiama dark pink che invece è un fucsia molto molto bello credo che sia un colore molto più pieno e penso che col mio incarnato sia un po' meglio dei primi due e poi c'è questo favoloso rosso red torniamo in zona occhi ci sono due matite per gli occhi una marrone e una nera ed entrambe hanno sul tappo il temperino che credo sia una cosa favolosa e poi c'è un eyeliner che è di quelli a penna e liner liquido e sono 4,5 ml ed è nero rimaniamo sempre in zona occhi ci sono due palette entrambe le regalerò in un prossimo giveaway non so se nello stesso o comunque nei giveaway a venire comunque li vedrete comunque c'è la prima che è la smokey high palette è molto bella perché come tutti gli smokey si deve partire da un colore scuro per arrivare a un colore chiaro questi virano dal nero al grigio e credo che siano bene sia per gli occhi chiari che per gli occhi scuri e poi c'è questa che è super pazza per chi ha voglia di truccarsi con colori wow sparaflesciosi si chiama neon palette ma va è sempre 4,5 grammi ed entrambe come vi dicevo prima le troverete prossimamente fondotinta carinissima la confezione sono tutti da 30 ml e sono dal più chiaro al più scuro c'è il translucent il medium e il fire of fear sicuramente due li regalerò mi terrò solo il translucent perché credo che sia simile e ora passiamo alle unghie wow io adoro gli smalti lo sapete ecco qui mi hanno inviato un bel po' dei loro smalti ve li faccio vedere uno allora c'è il top coat sono felicissima perché avevo finito il mio volevo provarli insomma uno di un'altra marca quindi poi di questo vi farò sapere se è resistente poi c'è il numero 1 che è questo bel viola non sono colori matte sono comunque luminosi come tipo di colore poi c'è il numero 2 che è questo rosa molto molto bello mi piace molto sembra quasi metallizzato il numero 3 che è questo nero wow adoro il nero adoro i colori scuri soprattutto in questo periodo poi c'è questo rosso che fa subito natale e festa che è il numero 4 questo che è troppo bello è praticamente un colore che di base dovrebbe essere trasparente ma è pieno intriso di micro glitterini che sono viola e blu quindi molto molto carino il numero 9 che è un fucsia e per ultimo il numero 10 che è questo bellissimo colore che ho misto tra il tiffany sembra un po' quel colore di chanel che andava tanto tanti anni fa e sempre rimanendo in tema unghie c'è questo che è il loro solvente di quelli che si infila il dito poi questo lo proveremo insieme e vedremo se funziona sono questi pennelli ve li faccio vedere uno per uno c'è il kabuki sono tutte a setole sintetiche poi c'è questo che è a ventaglio che è favoloso per mettere la cipria poi c'è questo che invece è doppio e serve sia per sfumare l'ombretto che per mettere le liner scusate se oggi non guardo tanto nell'obiettivo ma guardo cosa vi sto facendo vedere se sono a fuoco poi questo che serve il classico a lingua diciamo di gatto tra virgolette che serve per mettere il fondotinta l'immancabile questo è indispensabile per me per le sopracciglia e per ultimo il pennello per il blush che dovrebbe essere angolato e siamo arrivati all'ultime vi le faccio vedere sono due palette allora la prima è per contouring sono tre cialde in crema da 7 grammi l'una è bellissima la confezione c'è l'highlighter il bronzer e la terra e vi fa anche vedere come mettere ciascuna delle tre quindi come posizionarle sul viso magari di questa faremo insieme una review proveremo insieme a fare il contouring e l'ultima palette è questa che si chiama Air Brow Kit è per le sopracciglia sono quattro cialde da 3 grammi l'una nel primo c'è un primer in crema poi invece questi sono polverosi e c'è il colore beige il colore brown il colore black una pinzetta per le ciglia e un pennellino duo e anche di questa penso che farò una quick review le proveremo insieme ci faremo le sopracciglia insieme ok allora questo era il video spacchettamento come vi ho detto a inizio video ho cercato di essere il più veloce possibile comunque non vi ho sbocciato i prodotti perché voglio ancora decidere cosa restere a me e cosa darò a voi e quindi mi sembrava brutto ecco farvi vedere magari la palette poi volevo regalarvela col mio dito con la mia di tasa non è carino comunque per ogni info vi rimando al sito ve lo scrivo qui in sovraimpressione ve lo metto anche giù nell'info box e giù nell'info box vi metto anche i loro link ai social andate a dare uno sguardo perché secondo me hanno degli ottimi prodotti per quanto riguarda i prodotti che mi terrò li vedrete all'opera nelle varie quick review che faccio io settimanalmente quindi magari faremo insieme il contouring eccetera eccetera quindi se volete iscrivervi al canale così insomma non vi perderete i prossimi video review io sono contenta io spero che questo video vi sia piaciuto spero che l'idea insomma di condividere con voi questi regali vi sia piaciuta io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video ciao eccomi voi direte cosa stai facendo qui allora ho smistato tutte le cose e ho detto ok prima di montare il video voglio metterci anche questo pezzo vi faccio vedere le cose che troverete nei prossimi giveaway quindi che divido con voi eccole qua eccole qui vi ho messo un bel po' di cose e quindi queste tutte queste cosine insieme ad altre che ho già messo da parte le troverete pian piano nei vari giveaway poi deciderò come smistarle però ecco mi faceva piacere farvi vedere ora il video è finito io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video ciao